Gli italiani hanno dato 33 milioni con gli sms, quanti di questi milioni sono arrivati in quella foto là che abbiamo visto all'inizio della nostra trasmissione, cioè nella sua città che ha visto più di 200 persone morire ed è completamente rasa al suolo? Zero. Lei si aspettava dei soldi da questi sms? Guardate, io penso che siano due aspetti ben divisi, non è detto, anzi non è assolutamente vero che la solidarietà non può andare di pari passo con gli interventi dello Stato. Ecco, io mi aspettavo qualcosa. Allora io penso che Amatrice e che tutti i comuni del cratere e che tutti i danni fuori cratere debbano essere recuperati e tutto debba essere ricostruito e che per raggiungere questo obiettivo bisogna utilizzare al meglio sia le risorse dello Stato sia le risorse che vengono dai privati e che queste risorse vanno viste insieme dove interviene lo Stato e dove interviene No, permettemi però, perché qui non è diciamo una battaglia tra poveri. Io dico, oggi io... Posso dire una cosa? No, scusami. No, in diverse vesti noi siamo oltre che sindaco, senato, siamo sindacalisti dei terremotati. Io però voglio dare un ulteriore argomento a disposizione dei telespettatori. Oggi noi abbiamo riaperto il palazzetto dello sport. Il palazzetto dello sport, se non veniva finanziato da associazioni liberali, oggi il palazzetto dello sport era chiuso. Faccio una domanda. I soldi degli SMS forse non potevano servire per rimettere in piedi il palazzetto, perché io sono stato fortunato che mi sono nutrito della solidarietà degli italiani e abbiamo anche donato ad altri popoli, perché noi abbiamo fatto una raccolta fondi per Livorno, abbiamo fatto un progetto Alessandra per i malati oncologici. Io faccio una domanda però. Se non ci fosse stato il mondo della solidarietà extra SMS, io oggi avevo il palazzetto dello sport, che è l'unica struttura in piedi che può permettere la socializzazione... Non ho capito, non ho capito, Pirozzi. Una parte il CONI e una parte l'associazione Amatrice Siamo Noi. Se noi io non avevo una struttura... Che sono privati queste associazioni? Privati, privati. Fondazione Onesti e associazione Amatrice Siamo Noi. Come funzionano gli SMS?